ciao a tutti benvenuti sul mio canale mi chiamo david oggi voglio parlarvi di due più due libri che ho letto nel mese di gennaio e alla fine di questo video vi racconterò anche qualcosa della mia vita privata del gennaio iniziamo subito con il primo libro Elsa Morant l'isola di Arturo l'isola di Arturo è un romanzo di formazione scritto dall'autrice italiana Elsa Morant nota come una delle più importanti autrici italiane del scorso secolo e anche come moglie dello scrittore Alberto Moravia e per questo romanzo pubblicato nel 1957 Morant ha vinto il premio strega dello stesso anno il romanzo descrive lo sviluppo di Arturo Gerace da Fancellone a Uomo adolescente e gli argomenti chiave di questo romanzo sono le conseguenze della mancanza di amore genitoriale lo struggimento per essere notato come un essere umano le complicazioni del rapporto tra padre e figlio il ruolo della natura come sostituto delle relazioni umane la gelosia l'amore soprattutto l'amore dell'uso e anche qualche tabù nel campo d'amore come l'omosessualità e l'impossibilità di un rapporto amoroso tra figliastro e madrigna il protagonista è Arturo Gerace Arturo è cresciuto come un orfano di madre e abita in un palazzo trascurato sull'isola di Procida il padre di Arturo Wilhelm Gerace è di origine tedesca e Wilhelm è una persona stravagante la maggior parte dell'anno è assente e non si sa dove stia viaggiando agli occhi di Arturo il padre l'aria d'un errore dell'infallibilità ma il lettore può accorgersi rapidamente che qualcosa non va con questo padre con quest'uomo molti disturbanti sono le descrizioni come le padre si comporta e come lui è diventato proprietario del palazzo dove vivono Arturo e Wilhelm ereditato da un veliardo eccentrico che odiava le donne e preferiva contornarsi di giovanotti anche molto disturbante le descrizioni come Wilhelm trattava sua prima moglie che è morta poco dopo la nascita di Arturo e come ha trascurato addirittura Arturo nei primi mesi dopo la morte della madre non se ne fregava niente del neonato Arturo sopravviveva soltanto grazie a un domestico del palazzo che l'ha nutrito con latte di capra nella prima parte del romanzo viene descritta la vita quotidiana di Arturo non gli piacciono i coetanei né altre persone invece preferisce preferisce battre l'isola e il mare da solo soltanto camponiato dalla sua cagnolina immacolatella e questa parte del romanzo è piena di descrizioni idiliac dell'isola le sue spiagge sabbiose la costa rocciosa la bellezza del tramonto sul mare le esperienze avventurose di Arturo quando naviga nella sua barchetta in rare occasioni quando il padre sta visitando l'isola fanno escursioni insieme e parlano di idee altisonanti come la grandezza della famiglia gerace o della superiorità del razionalismo e dell'ateismo del padre sulla superstizione dell'arretratezza degli abitanti della isola sono questo sono solo questi discorsi rarissimi che plasmano l'idea di Arturo e gli danno la sensazione di essere preso sul serio da parte di suo padre tutto cambia però quando un giorno il padre ritorna l'isola insieme a una nuova moglie si tratta di una sedicenne e soltanto due anni più grandi di Arturo è una ragazza napoletana e rimane inspiegato al lettore perché il padre abbia deciso di sposarsi un'altra volta soprattutto con questa ragazza giovanissima non si atta è molto timida taciturna e devotissima al cristianesimo il suo corredo consiste principalmente di immagini di madonna di madonna e un paio di scarpe con gli attacchi alti che lei non idossa mai dopo l'arrivo sull'isola il modo in cui viene trattato dal Wilhelm persino nei primi giorni delle nozze è molto disturbante lui cerca sempre di spaventarla parlando 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 di fantasmi notturni nel palazzo e anche accennando cose inquietanti riguardo gli eventi fisici della prima notte di nozze e soprattutto le fa sapere che non lo ama questo è molto disturbante ciò nonostante questo sembra che non si atta lo adori e si dedica senza esitar al ruolo di moglie primorosa e casalinga dirigente e anche matrigna per Arturo e Arturo è molto confuso di questo cambiamento nella vita familiare si comporta molto sgarbatamente verso la sua matrigna perché prova una forte inimicizia verso di lei la tratta in modo tracotante ostile e le iride frequentemente la situazione aggrava tipo quando Arturo scopre che non si atta è incinta ma in questo periodo inizia anche a mettere in dubbio il comportamento del padre perché quello non è per nulla interessato né alla situazione di sua moglie né al nascituro invece di prendere cura della sua moglie parte per fare un viaggio senza interessarsi alla data della nascita e senza indicare quanto ritornerà la notte in cui annunziata partorisce e la svolta più importante del romanzo stanno a casa soltanto le due Arturo e annunziata quando inizia il travaglio di annunziata e all'inizio Arturo non sa cosa stia succedendo e soltanto spaventato dal dibattersi e delle grida strazianti di annunziata ma quando corre all'impazzata per svegliare l'allevatrice dell'isola si rende conto di avere molto paura che annunziata morisse e questa rivelazione cambia tutto il suo comportamento verso di lei da quella notte in più si sviluppa una sorta di amicizia tra loro ma questa amicizia diventa complicata perché Arturo ben presto prova molto gelosia verso il neonato che riceve molte carezze e baci di annunziata a causa della gelosia Arturo si accorge che questo sentimento è un affetto più forte dell'amicizia ma si tratta di vero e proprio amore si è davvero innamorato di annunziata particolarmente i baci che riceve suo fratellastro denunziata sono una tortura per Arturo a causa della morte prematura di sua madre e l'atteggiamento distante di suo padre Arturo non ha mai ricevuto un bacio il desiderio di essere baciato diventa quasi un'ossessione e finalmente Arturo prova a baciare annunziata in un atto quasi quasi di sopruso e da lì inizia il disastro il lettore attento ha notato da tempo che anche annunziata sia innamorata di Arturo senza accorgersene ma è anche troppo devota e troppo fedele al suo marito per cedere alla tentazione di diventare l'amante di Arturo non vi dirò di più sulla trama per non rovinarvi il piacere di leggere questo romanzo ma credo che abbiate già un'idea dei motivi principali e dei conflitti umani di cui parla questo romanzo. Morante scrive uno stile ricco di immagini ed è molto bravo a catturare l'atmosfera sia della natura sia della vita interiore dei suoi protagonisti. Il linguaggio sembra più radicato nella tradizione dell'ottocento che nella modernità ma senza apparire antiquato. Questo è stato il mio primo libro di Elsa Morante e lo posso consigliare a tutti lettori interessati ai romanzi di formazioni che si concentrano sullo sviluppo psicologico in condizioni difficili. Andiamo al secondo libro, George Eliot, The Mill on the Floss. Ho letto questo libro in inglese. questo romanzo, The Mill on the Floss, viene spesso descritto come una storia molto triste. Sono accordo sul fatto che abbia un finale triste ma sarebbe inappropriato ridurre il romanzo a questo. Dal mio punto di vista il romanzo merita assolutamente di essere letto, nonostante la sua tristezza, perché tocca questioni umane molto importanti. Il tema principale del romanzo è la lotta dell'individuo contro le circostanze, ma per essere più precisi mostra come un'educazione, un'formazione inadeguata e la mancanza di una buona guida possano impedire la formazione del carattere e possono addirittura rovinare la vita delle persone, nonostante delle buone intenzioni di chi era responsabile per dell'educazione impartita. Credo che questa sia anche un'accusa di George Eliot al fatto che ai suoi tempi non esisteva un sistema educativo generale e sistematico. L'istruzione obbligatoria fu istituita nell'Inghilterra solo nel 1880, ben dopo la morte di George Eliot. La storia ruota attorno all'educazione e alla giovinezza di Maggie Tulliver e di suo fratello Tom Tulliver, entrambi cresciuti nel mulino doll coach di proprietà del padre, Mr. Tulliver. Maggie e Tom hanno caratteri molto diversi. Tom è un ragazzo molto pratico e pragmatico che ha una serie di convinzioni e principi ben definiti su cui agire, senza molto curiosità, spiritualità o sete di conoscenza, ma sempre molto fiducioso che la sua valutazione di ogni situazione, di ogni cosa sia assolutamente giusta, se non l'unica possibile che ogni persona ragionevole dovrebbe accettare. Maggie, al contrario, è molto più guidata dagli impulsi e dai suoi capricci, poco costante nelle sue convinzioni e nel suo comportamento. Lo vediamo bene nei primi capitoli del romanzo, quando entrambi sono molto giovani. Per esempio, Tom è stato via per un paio di settimane e al suo ritorno si ha reso conto che i suoi conigli sono morti perché Maggie aveva dimenticato di dar loro da mangiare. In un'altra occasione, quando Maggie è irritata per un commento fatto sui suoi cappelli, li taglia semplicemente con un paio di forbici, lasciando sbigottite le madri e le zie in visita. Torneremo più tardi su Maggie e Tom, ma prima dobbiamo anche spendere qualche parola sul loro padre, il signor Tulliver. Mr. Tulliver è un uomo di buon carattere e dal cuore tenero fino al punto di mettere in pericolo il benessere economico della sua famiglia, prestando denari senza sufficienza di garanzie. D'altra parte può essere molto testardo e insistere su ciò che considera un suo diritto, tanto che contro tutti gli avvertimenti inizia una causa giudiziaria contro un vicino e alla fine perde questa causa e mette nei guai tutta la sua famiglia. Il signor Tulliver è molto affezionato a Maggie a livello emotivo, mentre il suo rapporto con Tom è più pratico. Vuole che Tom riceva un'istruzione formale, in parte anche per motivi egoistici, perché pensa che un giorno un Tom istruito possa essere d'aiuto nei conflitti legali che deve affrontare. Ma nonostante le sue buone intenzioni, Mr. Tulliver non ha la minima idea di cosa richiede e consista una buona istruzione. Così Tom viene affidato a un parrocco come insegnante privato e qui Tom viene trattato con ogni sorta di materie assolutamente inutili. In primo luogo il greco e il latino antichi e i poeti antichi e questa educazione ben intenzionata, ma assolutamente inadeguata per Tom, indurisce il suo carattere rendendolo ancora più pragmatico, duro, razionale e soprattutto spietato nei confronti degli altri, in particolare della sorella Maggie. Maggie invece non riceva alcuna educazione formale, è la figlia prediletta del padre, che però non si preoccupa affatto della sua crescita intellettuale, anche se lei è sicuramente quella più interessata ai questioni intellettuali, con una naturale curiosità, di esplorare e capire la sua piccola parte del mondo. È più che altro una sognatrice a occhi aperti e che non fa danni a nessuno. Tra l'altro Maggie si imbatta nell'opera di Tommaso da Kempis, il suo libro Imitazione di Cristo, un libro devozionale, medievale, molto pio, che insegna l'umiltà e la rinuncia a se stessi e poiché lo legge senza alcuna guida, lei prende tutto alla lettera e a causa del suo carattere instabile, oscilla costantemente tra azioni avventate e impulsive e atti eccessivamente osservanti di abnegazione di se stesso. La situazione cambia drasticamente quando il signor Talibar perde la sua causa giudiziaria, le sue proprietà e anche la sua volontà di lavorare. E così Tomm deve interrompere bruscamente la sua cosiddetta educazione e istruzione e iniziare a guadagnarsi la vita anche per mantenere la famiglia. Un compito che gli si adice perfettamente dato il suo carattere pragmatico e pratico e per cui alla fine riesce a pagare tutti i debiti del padre e a restituirlo come affettuario a Dolcoach Mill. Il secondo livello di complicazioni inizia non appena vengono coinvolti l'affetto e l'amore romantico. La storia d'amore si svolge lentamente e ruota attorno a Maggie e un compagno di classe di Tom, Philip Wakeham, un disabile con un gobbo innamorato di Maggie, ma fortunatamente Philip Wakeham è il figlio dell'avvocato che ha combattuto la causa giudiziaria contro il signor Talibar. Si può immaginare che questo porterà a molti problemi. La trama si complica ulteriormente quando anche il fidanzato di una cugina di Maggie mette gli occhi su Maggie e progettando di fuggire con lei per sposarsi in segreto. Non vi dirò altri spoiler, dovrete leggerlo da soli. Posso solo ripetere quello che ho detto all'inizio. Pur essendo un romanzo con un finale un po' triste, è un bellissimo studio del carattere e sul destino che approfondisce temi importanti dell'umanità come l'educazione impartita dalle persone che hanno un effetto formativo su di noi che avrà un grande impatto sulla formazione del nostro carattere e del nostro destino. Il libro presenta anche una serie di scene molto umoristiche e spiritose in cui Elliot mette in discussione la superficialità, il bigotismo e l'egoismo di alcuni dei parenti dei Talibar. Un gruppo di zii e zii, tutti con i loro specifici difetti che in generale sono ben intenzionati, nessuno di loro è in realtà una persona cattiva, ma tutti hanno i loro piccoli difetti e un po' di vanità e questi piccoli difetti Elliot riesce a mettere in mostra in modo splendidamente umoristico, non deridendoli ma con simpatia e sentimento generoso per loro. Nessuno di loro è un personaggio monodimensionale, ma ognuno di loro ha le sue specifiche debolezze che impattano su tutto ciò che dicono e che fanno. La mia scena preferita è quella in cui tutte le zie e gli zii si riuniscono per discutere come aiutare la famiglia Talibar dopo il fallimento della causa giudiziaria del signor Talibar e in cui la maggior parte di loro invece di proporre consigli pratici e atti di carità, ognuno di loro sfrutta l'occasione per mettersi in mostra, per lodare le proprie piccole virtù e i propri successi. Tutti affermano di voler fare del loro meglio, ma se si legge tra le righe si notano le loro motivazioni nascoste ed egoistiche, il modo in cui si contraddicono e rivelano tutti i loro difetti e vizi caratteriali, questo è splendido. Questo esilarante capitolo da solo mostra la potenza narrativa di George Eliot e la sua maestria nella descrizione dei personaggi. Allora, un piccolo bonus letterario. Voglio anche mostrarvi altri due libri che ho letto in questo mese che ho deciso di non presentare in dettaglio perché non mi hanno colpito così profondamente come gli altri due. Il primo libro è Show Boat di Etna Ferber, un libro in inglese che ho acquistato nel mio book haul in una libreria antiquaria nel mese di gennaio. Ho anche realizzato un video in cui presento tutti i libri acquistati lì e se volete dateci un'occhiata. Questo romanzo che racconta di una famiglia che gestisce un showboat sul Mississippi alla fine dell'ottocento è stato famoso in passato ed è stato anche la base per un musical di Broadway. È un buon romanzo ma più che altro un libro leggero dell'intrattenimento. È un po' divertente e credo che abbia alcuni piccoli difetti nella scrittura, in particolare nell'ultimo quarto del romanzo che impiediscono di essere così tratto grande letteratura, almeno secondo la mia definizione personale. Ma se siete alla ricerca di un romanzo interessante e divertente sul Mississippi e sul show business dell'ottocento, questo vi piacerà. Il secondo libro è stato un libro in tedesco, il romanzo storico Trenk dell'autore esole Bruno Frank sulla vera vita di un nobile che era stato il favorito del re prussiano Federico il Grande, ma una persona che è stata severamente punita a causa di alcuni suoi movimenti politici e a causa del fatto che aveva una sorta di relazione sentimentale o addirittura amorosa con la sorella del re. Il libro mi è piaciuto, ma leggendolo ho anche incontrato qualche difficoltà, quindi ho intenzione di leggere altri romanzi di questo autore, perché gli scrittori tedeschi in esilio sono una delle mie nicchie letterarie preferite, ma forse un giorno farò un video speciale su questo autore, chissà. Un piccolo pezzo di bonus retroscena sulla mia vita personale e fuori tema. Attualmente ho una specie di progetto secondario molto pratico che mi ruba molto tempo per la lettatura, ma mi fa fare molto esercizio fisico. Ho passato ore e ore a scavare nel mio giardino perché ho notato che una parte del mio giardino si stava trasformando in una palluda. Nel giardino c'è un sistema di drenaggio vecchio di cent'anni. Il tubo principale sembra essere intasato, quindi ho dovuto scavare alcune bucche profonde, tutte a mano. E' stato un bel lavoro perché ho fatto anche delle scoperte interessanti. Da un metro di profondità, in mezzo a tanti rifiuti, ho anche trovato questa bella tazza che deve essere degli anni 40. Era rotta in due pezzi, ma l'ho incollata e ora si trova sul mio scaffale. E' come un bel ricordo di questa esperienza. Questo è tutto. Grazie per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto, datemi un mi piace o iscrivetevi sul canale o lasciatemi un commento qui sotto. Abbiate cura di voi. A presto. Ciao.